Dal Vangelo secondo Luca Ritornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'Angelo prima che fosse concepito nel grebo. Iniziamo il nuovo anno affidandolo a Maria, Madre di Dio. Il Vangelo della liturgia di oggi parla di lei, rimandandoci nuovamente all'incanto del presepe. I pastori vanno senza indugio verso la grotta e che cosa trovano? Trovano, dice il testo, Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Fermiamoci su questa scena e immaginiamo Maria che, come mamma tenera e premurosa, ha appena adagiato Gesù nella mangiatoia. In quella adagiare possiamo vedere un dono fatto a noi. La Madonna non tiene il figlio per sé, ma lo presenta a noi. Non lo stringe solo tra le sue braccia, ma lo depone per invitarci a guardarlo, accoglierlo, adorarlo. Ecco la maternità di Maria. Il figlio che è nato lo offre a tutti noi, sempre dando il figlio, segnalando il figlio, mai rimanendo come cosa propria del figlio, no? E così durante tutta la vita di Gesù. E nel posarlo davanti ai nostri occhi, senza dire una parola, ci dona un messaggio stupendo. Dio è vicino, a portata di mano. Non viene con la potenza di chi vuole essere temuto, ma con la fragilità di chi chiede di essere amato. Non giudica dall'alto, di un trono, ma ci guarda dal basso, come fratello, anzi, come figlio. Nasce piccolo e bisognoso, perché nessuno deve più vergognarsi di sé stesso. Proprio quando facciamo esperienza della nostra debolezza e della nostra fragilità, possiamo sentire Dio ancora più vicino, perché si è presentato a noi così, debole, fragile. È il Dio bambino che nasce per non escludere nessuno, per farci diventare tutti fratelli e sorelle. Quasi sì! Grazie a tutti